Vediamo subito i dati per quanto riguarda la diffusione dell'epidemia nella regione Sicilia, provincia per provincia. A Messina sembra che, nonostante il DPCM parte dal 4 di maggio, sembra che sia scattato già il Libera Tutti. In sostanza strade con troppe auto, code che si sono allungate presso gli esercizi commerciali aperti, tanta gente per strada. Sembra che a Messina si sia anticipato di una settimana, dunque il 4 maggio, ma con la variante del Libera Tutti. Proprio ciò che non ci si augura in città si è passati in poco tempo dalla guerra dei droni e delle auto con megafono che comandavano di stare a casa alla quasi assenza di controlli. Ma come è possibile? I numeri dei contagi calano, ma non sono spariti, ricordiamo. Continuiamo anche a Messina, quindi a contare morti, anche se con molti guariti, con un alleggerimento del peso sulle terapie intensive di ricovero in ospedale. Ma sono ancora in tanti in isolamento perché positivi. Insomma, il virus non è stato di certo debellato ed il nuovo DPCM non è ancora entrato in vigore, tra l'altro. Stiamo probabilmente vivendo, ricordiamo, un'onda lunga dell'effetto clausura forzata che ha di fatto ridotto i contagi e sta facendo calare il numero dei positivi attuali, che a ieri erano 376 a Messina, calati dai 403 del giorno prima. Un'onda lunga, quindi ricordiamo che se non vengono però rispettate le norme anticontagio rischia di esaurirsi e tornare sotto forma di seconda ondata di contagi, un rischio oggettivo già calcolato anche dal governo. È necessaria dunque cautela e sarebbero anche di buon auspicio che tornino le raccomandazioni da parte del Sindaco, così come nella prima fase per evitare che i sacrifici non siano stati vani. D'altronde lo dice il Presidente del Consiglio Conte, lo dice anche il Papa, quindi sarebbe il caso che lo dicesse anche il Sindaco Cateno De Luca. Ma intanto la fase 2. Aprono le aziende del Nord, aprono quindi le grandi imprese, ma ci si dimentica di quello di cui vive il Sud, vive soprattutto la Sicilia, il turismo e le imprese agricole. Vediamo nel servizio che segue quello che ha dichiarato il Sindaco nella sua diretta della giornata di ieri e che di rimando gli fa eco anche il Presidente Musumeci, ma poi c'è soprattutto una lettera da parte della Presidente dell'Associazione per le partite IVA e gli Autonomi, Rossitto, che non le manda a dire e che parla chiaro di come stanno le cose dell'economia reale. Li vediamo tutti di seguito. Aprono le aziende del Nord e non ripartono quelle del Sud, eppure il maggior contagio è proprio laddove l'economia riparte. Perché? Se lo chiede il Sindaco De Luca è con lui gli imprenditori. Il Sindaco De Luca dichiara così che sta preparando l'ordinanza per ripartire. Conte ha deciso di non decidere. Musumeci lo sta permettendo, dice De Luca, farò valere a Roma i diritti della nostra economia. Non siamo carne di porco, dice in modo molto colorito, pretendo restrizioni differenziate per regioni. Il nuovo provvedimento governativo, dettaglia De Luca, ha fatto scalpore perché è figlio del vorrei ma non posso, grazie a una decisione non presa. Proprio in relazione a questo, noi del Comune di Messina abbiamo invece deciso di decidere. Perché non è pensabile continuare così, senza coraggio e senza tenere conto della necessità oggettiva riguardo agli elementi che consentono un'apertura, seppure in libertà vigilata. A Conte dico, dice De Luca, che non ci stiamo. Non accetto il DPCM entrato in vigore con queste scadenze scriteriate. Cosa farei io se fossi nei panni del Presidente Giuseppe Conte, alla luce di quello che si è verificato in Italia? Si interroga De Luca. Parto dalle precondizioni per ripartire, ovvero prendere atto della diffusione epidemiologica su tutto il territorio nazionale. Il 70% è concentrato su quattro regioni del nord. C'è una chiara distinzione territoriale che deve essere presa in considerazione. Quindi, alla luce di ciò, corrono norme restrittive al centro nord, in particolare Lombardia e Piemonte, e più flessibili per le regioni del sud, in cui il contagio è sotto la media nazionale, stabilendo comunque il criterio di libertà vigilata. A riferirlo è il Sindaco di Messina, Cateno De Luca. Lo dice Cateno De Luca. Se fossi il Presidente del Consiglio, sottolinea, farei una norma per i comuni, ovvero tutti quelli che hanno la possibilità di sostenere le riduzioni, o meglio le esenzioni di tutti i tributi locali. Lo possono fare anche subito, cosa che adesso non può essere fatto perché manca una norma dispositiva che ci svincola dalla possibile contestazione di danno erariale. E Cateno De Luca continua ed incalza con una nuova banca dati che lancia come idea durante una delle sue dirette. Tutto potrebbe ripartire anche con il sistema delle prenotazioni. In base ai limiti che ogni attività dispone, si potrà stabilire quante persone possono prenotare contemporaneamente, pur garantendo le distanze di sicurezza all'interno di locali e di esercizi commerciali. Qualora per la prenotazione non ci sia posto, dice De Luca, il richiedente avrà la priorità per la volta successiva. Chiunque vuole riaprire la propria attività può farlo a queste condizioni. Per gli esercenti che trasgrediscono si corre il rischio di sospensione dell'attività, quindi le prenotazioni diventano una precauzione imprescindibile per la ripartenza. Le mascherine per me, dice De Luca, devono essere obbligatorie, specie nel momento in cui si entrano in luoghi chiusi. Per tale motivo imporrei dei distributori automatici all'interno delle attività commerciali che permettano il rilascio di mascherine al costo di 50 centesimi, visto che verrà abbattuta l'iva del costo delle mascherine, così come permetterei l'introduzione obbligatoria del dispenser in ogni locale commerciale per permettere la sanificazione delle mani. Fin qui le idee di Cateno De Luca sottoposte al Presidente Musumeci e di rimando al Presidente del Consiglio Conte. E con una lunga lettera che Cristina Puglisi Rossitto scrive a Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana, a Gianfranco Micciche, Presidente dell'Arse e a tutti gli onorevoli dell'Assemblea regionale siciliana per rappresentare lo stato reale di disagio delle imprese siciliane, degli autonomi e delle partite IVA in genere. Cristina Puglisi Rossitto è coordinatore regionale per la Sicilia dell'Associazione Politica e Culturale Autonomi e Partite IVA e nella sua lettera evidenzia agli onorevoli destinatari alcune importanti valutazioni che dovranno necessariamente essere considerate quale spunto di riflessione e di azione per un'adeguata strategia operativa a salvaguardia degli interessi della nostra terra siciliana, scrive. Non vi è dubbio che dopo l'8 marzo tutto il mondo è cambiato e ciò comporta una rivisitazione non solo dei comportamenti civici da parte dell'intera popolazione siciliana e nazionale, ma anche una differente gestione operativa del comparto economico aziendale e delle attività autonome che rappresentano la vera spina dorsale della nostra regione come quella dell'intera nazione Italia. Purtroppo, visti i provvedimenti posti in atto dal governo centrale, scrive, li riteniamo inadeguati o comunque indiscutibilmente insufficienti per affrontare la grave crisi economica che si profila in tutta la sua gravità e feroce nel prossimo futuro. Ciò che ci prefiggiamo nel ruolo di rappresentanti dell'imprenditoria siciliana e di proporre e sperare in un'azione forte di grande impatto economico che possa fungere da ammortizzatore per tutte le problematiche economiche e finanziarie che gli autonomi stanno affrontando. I provvedimenti governativi in nessun caso hanno previsto, scrive differentemente da quanto sta accadendo in altri paesi europei, aiuti concreti alle aziende e alle imprese. Lo scarso impatto economico è stato limitato ad una provvisoria sospensione dei pagamenti dei tributi e delle tasse e non anche ad una loro totale eliminazione per un periodo sufficiente, così da poter garantire alle aziende una seppur difficile sopravvivenza sul mercato. Altrettanto dicasi per ciò che concerne il paventato provvedimento Salva Italia, con il quale si è sostenuto che il governo fosse intervenuto con un'azione forte e, tra virgolette, poderosa, tanto da immettere nel mercato finanziario risorse importanti, che avrebbero davvero consentito alle aziende italiane di poter usufruire dei necessari flussi finanziari a copertura dei costi correnti, anche in assenza di introiti determinati dalla chiusura totale dell'Italia intera. Ma in verità, scrive la Rossitto, si è subito compreso che tale provvedimento appariva inadeguato, se non addirittura controproducente, poiché nessuna iniezione di liquidità è stata posta in essere se non limitarsi ad alimentare il comparto bancario, fungendo il governo solo da garante, nelle concessioni di prestiti alle aziende, prestiti che poi le banche, scrive con varie scuse, non concedono. Garanzie che a conti fatti appare solo una sorta di slogan, tenuto conto che le banche stanno imponendo e richiedendo una serie di innumerevoli documenti tali da impedire di fatto, nella maggioranza dei casi, la concessione di qualsiasi credito bancario. Senza sottacere che tale operazione governativa determinerà un acquirsi del monte debitore a carico dei bilanci contabili delle aziende italiane, degli autonomi e dei piccoli imprenditori che stanno soffrendo come mai accaduto nella storia italiana del dopoguerra. Non possiamo esimerci, scrive la Rossitto, dal constatare come pure gli altri provvedimenti posti in essere dal governo siano del tutto insufficienti e in molti casi inattuabili, quali il cosiddetto bonus da 600 euro, inattuato fino ad oggi, contributo che non è stato nemmeno erogato a tutti i richiedenti, apparendo prima face più di una sorta di elemosina che un concreto e serio aiuto alle aziende. Eppure abbiamo anche la forza di essere una regione a statuto speciale con autonomia, ricorda a Musumeci la Rossitto. Non possiamo esimerci dall'osservare un'ingiustificata incongruenza nel provvedimento di riapertura di intere filiali economiche appartenenti al mondo della produzione industriale che, come ben risaputo, sono quasi tutte allocate nei territori del nord Italia, rinviando ingiustificatamente l'apertura delle attività economiche più presenti nel sud Italia, turismo e ristorazione. Si è coraggiosamente deciso di riaprire le attività economiche del nord Italia e si è deciso di rinviare, senza alcun logico motivo, la riapertura delle attività economiche nei territori del sud, dove fortunatamente i contagi sono stati considerevolmente inferiori. La Sicilia come nodo vive e sopravvive per tramite di aziende appartenenti al settore del turismo, dell'agricoltura e della ricezione. E' necessario, scrive alla Rossitto, che la regione Sicilia, con tutte le opportune procedure di protocolli e garanzie del caso, con coraggio e con orgoglio, provveda a valutare in modo adeguato una strategia di riapertura delle attività economiche siciliane al fine di scongiurare l'acuirsi di ulteriori difficoltà economiche nella nostra regione, tali da scavare ancora più quel solco che pone l'economia del sud Italia fanalino di coda del nostro paese. Dovranno necessariamente eliminate, non sospese, le imposte regionali comunali, quale a titolo di esempio le imposte sull'occupazione del suolo, come quelle delle insegne, come le imposte comunali, così da sostenere le attività economiche in generale. Dovranno necessariamente essere eliminate, quantomeno fortemente ridotte, le aliquide di imposta IRAP sino al 31 dicembre del 2021. Ciò solo potrà garantire alle aziende una maggiore disponibilità di flussi finanziari necessari ad affrontare il pagamento dei costi correnti e quindi a sopravvivere. Allora, avete riaperto intanto difficoltà nell'esercitare il vostro lavoro in questo momento? Chiaro che non è semplice, diciamo il discorso che bisogna fare entrare per quanto ci riguarda due persone alla volta perché in base ai mezzi quadri che abbiamo, diciamo non è semplice. Certo abbiamo riaperto oggi, quindi è lunedì mattina magari ci sarà un pochino di calma e vedremo con l'andare della settimana. Il gel nelle mani, la mascherina infatti poco fa è venuta una signora che non aveva i guanti che abbiamo forniti noi, abbiamo anche le mascherine all'occorrenza perché capiamo le esigenze delle persone. Non è semplice comunque fare questo lavoro perché mantenendo la distanza di un metro fra una persona e l'altra, far vedere i capi alle mamme, quindi non è semplice. Comunque noi ce la mettiamo tutta perché è importante appunto ripartire anche se con difficoltà però ci proviamo. La sanificazione? È stata fatta, intanto noi abbiamo provveduto, diciamo io con le ragazze, abbiamo fatto una buona pulizia con canneggina, alcol e in più abbiamo chiamato una ditta per la sanificazione. Non si respira bene questa ditta, la ragione lo so. Purtroppo ci dobbiamo convivere e quindi abbiamo chiamato questa ditta che puntualmente un giorno sì, un giorno no viene a fare la sanificazione al negozio. Va bene, bocca al lù. Grazie Crepi. Questa dunque è la situazione odierna, la situazione reale, un'economia che dovrebbe ripartire ma che difficilmente potrà ripartire con questi aiuti dei quali abbiamo sempre detto si sono riempiti i giornali ma di fatto non i conti correnti magri delle attività commerciali soprattutto del sud, quindi aiuti che non arrivano, le banche che non eseguono fra l'altro ciò che le circolari dell'ABI intimano, cioè il fatto di non entrare nel merito delle pratiche e che essendo finanziamenti garantiti dallo Stato non possono essere utilizzati per risolvere vicende pregresse di debiti pregressi da parte dei correntisti, degli imprenditori, insomma non si possono trasformare, dice chiaramente l'ABI, i prestiti che erano preesistenti in prestiti garantiti dallo Stato e quindi consolidarli così a favore delle banche. Non può diventare questa manovra poderosa come l'ha definita Conte da parte del governo nei confronti degli imprenditori una manovra per salvare per l'ennesima volta le banche, quindi bisogna sostenere l'economia, ma intanto la cassa integrazione è bloccata, l'Inps di Messina non risponde e 100 lavoratori aspettano da 21 giorni che appunto vengano erogate le cassa integrazione solamente nella città di Messina, sono 100 lavoratori impegnati nel servizio di trasporto ed esistenza igienico personale agli studenti disabili che frequentano le scuole medie superiori dell'intera provincia, che aspettano da 21 lunghissimi giorni che i vertici dell'Inps rispondono alla richiesta di chiarimenti inviata dai dirigenti del sindacato autonomo FIA del Clara Croce e Gianluca Cangemi in merito alla possibilità di accedere alla cassa integrazione straordinaria, ma insieme a questi lavoratori ve ne sono tanti altri che sono quelli delle imprese private, delle aziende e in effetti per quanto riguarda la fase 2 Musumeci in effetti evidenzia tutte le sue perplessità, dichiara in un'intervista a Telecolor misure troppo stringenti e contraddittorie per la Sicilia, o troppo stringenti o contraddittorie dico queste cose, dice Musumeci, pur avendo adottato in Sicilia misure severe che però hanno dato risultati, occorre riuscire a coniugare la linea della prudenza con quella della ripartenza, dice un altro settore che suscita le preoccupazioni del governatore è proprio quella del turismo, anche per questo motivo, ricorda, ho autorizzato i liti balneari alla pulizia delle spiagge a tutte le iniziative necessarie in attesa dell'apertura della stagione, stiamo lavorando insieme, il Presidente delle Regioni aggiunge per poter chiedere a Conte di rivedere alcune cose e tentare di salvare il salvabile, prima però dobbiamo metterci d'accordo perché anche tra di noi c'è chi dice cose diverse, questo è il punto, è la protesta simbolica dei gestori, per i gestori indipendenti di ristoranti, bar e quant'altro avrà difficoltà a poter ripartire o a gestire questa situazione in un momento in cui di crisi economica che sta delineandosi sempre più, magari molti di loro avranno difficoltà a poter riaprire e molti di loro purtroppo saranno destinati a scomparire. Oggi per 10 minuti si sono accese le luci dei locali nella città di Messina, questo servirà per poter porre l'accento e l'attenzione su quelle che sono le richieste, così non si può certo ripartire. Nella giornata di domani anche in provincia verranno simbolicamente consegnate le chiavi ai sindaci per dire o ci sono degli aiuti concreti oppure questo tipo di economia non potrà ripartire e molte aziende, come abbiamo detto, saranno destinate a chiudere. Spero bene, io sono a Milano chiuso in casa con tutta la mia famiglia già da 50 giorni, forse anche più. Sono assolutamente solidale con la vostra manifestazione che si terrà a Messina il 28 aprile in cui consegnerete le chiavi al sindaco della città e accenderete le luci dei locali. Quello che viene perpetrato nei confronti di noi che lavoriamo nei locali pubblici, nei ristoranti con musica dal vivo, nei ristoranti in genere, negli eventi, nelle cene, nei matrimoni, nei battesimi, nelle feste, negli eventi, nelle feste di piazza, è assolutamente ingiustificato e privo di fondamento. Soprattutto, devo dirlo, in una regione come la Sicilia, dove proprio oggi leggevo sul Corriere della Sera che la situazione va migliorando di gran lunga rispetto a Milano, per esempio, dove siamo ancora un po' messi malino. Per cui faccio appello alle autorità perché questi vostri messaggi, queste vostre intenzioni vengono accolte e non si parli più di separee, di plexiglass, di stupidaggini. Proprio sul Corriere di ieri era uscito un articolo assolutamente idiota che diceva che i ristoranti apriranno a metà, i ristoranti apriranno a metà, il titolo era sbagliato, metà ristoranti chiuderanno, questo è il titolo, metà ristoranti chiuderanno, non i ristoranti apriranno a metà. La gente si ammazzerà, ci saranno più morti per le conseguenze del coronavirus, più morti della malattia, ma per le restrizioni che il governo ci sta infliggendo. Parlano bene quelli che sono in televisione, sono sereni, fanno anche battute, ridono, tanto a loro cosa gliene frega, lo stipendio ce l'hanno sempre. In questo momento in Italia ci sono due partiti, quello degli disoccupati e quello degli stipendiati. I disoccupati non riescono mai a parlare, parlano sempre agli stipendiati. Buona fortuna a Dario e a tutti gli amici di Messina e anche a Stefano con il locale bellissimo di Milazzo dove spero di tornare a lavorare. Cosa devo dirvi di più? La Sicilia è sempre nel mio cuore. Un grande abbraccio. Giustizia dimenticata, problemi anche per quanto riguarda la giustizia per come strutturata misure di sicurezza necessari e anticontagio, l'organismo congressuale Forense mette l'accento su un punto che ancora sembra essere stato dimenticato nel DPCM del Ministro Conte. L'organismo congressuale Forense alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 aprile e dei contenuti del nuovo DPCM, oltre che dei precedenti provvedimenti, ha preso atto con crescente preoccupazione dell'inadeguatezza delle risorse destinate dal Governo alla giustizia e della disorganicità delle misure adottate nei vari settori e da parte dei vari ministeri competenti per tentare di assicurare la continuità della giurisdizione nonostante le misure di distanziamento. L'avvocatura italiana valuta queste misure insufficienti e contraddittorie, non adeguate a permettere la continuità della funzione giurisdizionale potenzialmente idonea a creare condizioni di ingiustizia e disparità per i cittadini in attesa di tutela dei propri diritti. Lo spiega il coordinatore dell'OCF Giovanni Malinconico, che continua, di fronte alla più grave crisi socio-economica del dopoguerra, una giustizia credibile e certa dovrebbe costituire il primo imprescindibile sostegno alla comunità nazionale e dal nostro sistema produttivo. Invece assistiamo sgomenti al totale disinteresse dell'esecutivo, mentre ciascun ufficio decide in piena autonomia le misure di sicurezza in una babbele giudiziaria senza precedenti. L'organismo congressuale forense rivendica la necessità che la giustizia italiana, cui è demandata la tutela e l'effettivo conseguimento dei diritti dei cittadini e senza il cui supporto non è immaginabile alcuna reale ripresa, né economica né sociale, sia urgentemente sostenuta con adeguate risorse che consentano di adottare un piano integrato straordinario per un'adeguata e piena ripresa dell'attività giudiziaria. La ricetta, secondo Malinconico, prevede la predisposizione di idonei protocolli di accesso agli uffici giudiziari, l'approntamento di adeguati presidi sanitari e di distanziamento, la programmazione delle presenze in sede di magistrati e personale di cancelleria, la compiuta realizzazione di un progetto di smart working che per le attività per le quali sia possibile lo svolgimento da remoto consenta l'accesso ai fascicoli telematici, anche al personale amministrativo abilitato in piena sicurezza, il sostegno agli uffici del giudice di pace che rappresentano il presidio giudiziario di prossimità e sostegno alle fasce sociali meno abbienti, un programma che può essere attuato, secondo CF, solo in una visione unitaria della giurisdizione che riducendo le inutili differenziazioni tra i vari settori veda al centro il ruolo propulsivo del di Castero della Giustizia e con una concertazione piena ed effettiva con le rappresentanze istituzionali e politiche dell'Avvocatura ne consenta l'esercizio della salvaguardia delle garanzie costituzionali per le parti. Cateno De Luca pone l'accento sulle baraccopoli e dalle baraccopoli poi si sposta sulla Family Card. è un po' un salto mortale per mettere l'accento su due punti fondamentali, su ciò che ancora, ovvero le baraccopoli, resta un problema gravissimo a Messina e che deve essere risolto, ma in questo momento di coronavirus diventa un problema anche restare a casa all'interno delle baraccopoli, lo ricorda Cateno De Luca e ringrazia la popolazione delle baraccopoli per questo, ma l'interrogativo è se accade qualcosa e allora il sindaco Cateno De Luca dichiara che stiamo predisponendo un piano d'emergenza, ma tanti sono i fondi che sono stati erogati con le Family Card, Family Card che però non sta funzionando come dovrebbe per colpa di un errore della piattaforma. Stiamo lavorando ad un piano di emergenza sanitario perché se ci fosse un problema in una delle 72 baraccopoli messinesi sarebbe una situazione gravissima e si deve pianificare in tempo come agire, scrive Cateno De Luca parlando di baraccopoli. Cerchiamo di sanificare una volta a settimana le baracche, tenendoci pronte a qualsiasi evenienza che speriamo non accada mai, abbiamo definito un'azione supplementare per questo territorio e abbiamo consegnato famiglia per famiglia le mascherine ed il gel igienizzante. L'amministrazione dice De Luca sta facendo il possibile anche per tutte le famiglie in difficoltà economica, Messina con la Family Card abbiamo dato la risposta concreta ai nuovi poveri causati dal coronavirus, un progetto complessivo che ci ha visto individuare 39 milioni e 300 mila euro per azioni milate, di questi 20 milioni destinate alle famiglie la differenza per un piano per le imprese che stiamo definendo. Su 20 milioni di euro ne abbiamo destinati 8 al sostegno alimentare con 12 mila richieste di altrettanti nuclei familiari, ci sono poi 6 milioni di euro destinati per le bollette dell'acqua e gas per i periodi da marzo e giugno e altri 6 milioni di euro per dare un contributo di 280 euro mensili per pagare l'affitto dell'abitazione principale. Ma la Family Card in questo momento risente di un malfunzionamento della piattaforma che si spera oggi venga risolto. Potremmo definirlo il pasticcio delle Family Card ma è un problema tecnico, un problema tecnico del quale già si è detto nella giornata di ieri durante la diretta del sindaco Cateno De Luca, sembra sia in via di risoluzione o completamente risolto, ma stamattina vi erano assembramenti davanti a Palazzo Satellite, erano tutti coloro che erano andati lì per cercare di risolvere, sbloccare, avere informazioni su quello che è il loro destino per quanto la Family Card, alcuni anche per annullarla e c'è stata anche qualche tensione. C'è il problema che i quartieri sono chiusi? Tutto così chiusi, non ho andato un po'. Cioè pure al contrario, fai l'assembleamento qua, dividici. Certo, non concentrati tutti i tuoi. Ma le difficoltà che avete avuto quali sono state? L'abbiamo ricevuto la Family Card. Sì. Però è stato approvato lì. Perfetto che sì. Buongiorno, volevo sapere che difficoltà state riscontrando e come mai sono tutti qui visto che i quartieri mi dicono che sono chiusi. I quartieri sono chiusi, hanno chiuso mercoledì pomeriggio, mercoledì sera, ma per l'accettazione delle domande, delle nuove stanze. Signori qua sono per annullamento, rinuncia perché nel frattempo stanno arrivando le partite IVA. O perché magari mi dicevano che avevano qualche problema che non sanno neanche se è stata approvata. Poi ci sono stati dei problemi quando al momento della richiesta dell'istanza le famose pensioni che venivano calcolate e a conoscenza. Quindi è stato corretto il sistema e naturalmente le stanze erano bloccate e ancora non ricevevano i buoni pasto, i buoni spesa, quelli settimanali. Perché voi vi trovate a gestire anche il rischio di un assembramento qui fuori. Naturalmente, ma chi è lei? E che è testato? Bevacqua, Tirreno-Satto e Voce di Popolo. Tirreno-Satto. Che sti sui pari interazzite? Siamo due amministrativi in tutto il palazzo. Io che sono qua il responsabile del capo ufficio, il mio collega terminalista e due assistenti sociali che fanno le amministrative. in qualche modo si stanno gestendo. Loro sono vecchiudeggi, gentili, educati e per bene. Perché in qualche modo stanno mantenendo la distanza. Certo, perché poi ne vale anche del senso civico di ognuno. Certo, no, no, io devo dire che per ora come sono messi... Certo, è arrivato dopo. Se veniva un po' prima c'era stata una piccola vita. Ma è fisiologica, si capisce. Va bene, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, grazie, grazie. Insomma, quartieri chiusi? Sì. Quartieri chiusi. Ma voi siete qui per annullamento, richiesta da confermare o per quale motivo siete? Per sapere se ve l'hanno data, insomma. A Piazza Casapia si teneva il mercato biologico, un mercato molto apprezzato da moltissimi cittadini che hanno deciso di cibarsi solo con prodotti biologici, 19 famiglie in difficoltà che però non vengono ascoltate dall'amministrazione e la solidarietà di Lega Ambiente. La vicenda del mercato biologico negato e l'appello delle 19 aziende familiari al sindaco De Luca, dichiarano noi siamo stati dimenticati. Scrivono così un gruppo di 19 produttori agricoli a cui da oltre una ventina di giorni è stato vietato per effetto dell'ordinanza numero 104 del comune di Messina di poter allestire la domenica il biomercato di Piazza Casapia, unico mercato comunale, si ricorda, del biologico a Messina. Un primo duro danno economico, scrivono lo abbiamo subito già nell'immediatezza dell'applicazione dell'ordinanza emanata nella tarda serata di sabato 4 aprile senza dare alcun preavviso che aveva già raccolto e caricato i prodotti sui propri mezzi convinto di poter lavorare la mattina seguente. Molte aziende sono state così costrette a regalare i propri prodotti. Due giorni dopo l'emanazione dell'ordinanza abbiamo, continuano a scrivere, prontamente richiesto tramite pecca al comune, se fosse possibile anticipare al sabato lo svolgimento del biomercato, ma nessuno si è degnato di risponderci e non sono valsi a nulla neanche i contatti telefonici. Ed è l'Ecambiente che esprime la propria solidarietà all'appello delle 19 aziende del mercato, denunciando al contempo il grave disagio dei numerosi cittadini messinesi che hanno scelto di alimentarsi con prodotti biologici e sani. Si tratta per la totalità di aziende a conduzione familiare, economicamente fragilissime, che aspettano da ormai un mese, risposta dall'amministrazione alla loro formale richiesta di anticipare al sabato il consueto mercato domenicale, solo nel periodo di permanenza in vigore delle ordinanze. Vista la transitorietà del provvedimento richiesto, scrive l'Ecambiente, poco sarebbe bastato all'assessore Musolino per non lasciare questi piccoli agricoltori nelle gravi difficoltà economiche in cui oggi versano. E poco le basterebbe, continuano ancora adesso, per compiere un piccolo gesto di vicinanza, almeno per l'ultima giornata di mercato di questa fase del lockdown, autorizzando l'anticipo al sabato 2 maggio del mercatino della prima domenica di maggio. Il 5G, partito da Sorbello, raccolta la sfida dal sindaco Cateno De Luca, dobbiamo dire le cose come stanno, il primo a parlarne fu Sorbello, il consigliere comunale Salvatore Sorbello dalle mille risorse, Cateno De Luca ha sposato questa battaglia, ma cosa può avvenire nel vietare l'installazione delle antenne del 5G? Ed è davvero così pericoloso come si pensa? Cateno De Luca ha sposato la battaglia contro il 5G, ma lui, novello Don Quixote di Messina, non ha fatti conti con i suoi stessi progetti, peraltro presentati in pompa magna all'Expo di Barcellona e solo qualche mese fa. I progetti che non possono farsi senza il 5G sono l'Urbact e la trasformazione di Messina in quella Smart City per i quali Messina è stata invitata a presentarli a Barcellona. La battaglia contro il 5G potrebbe anche un domani restituire al sindaco la corona di colui che ha saputo vedere lontano, ma solo una volta e se eventuali danni oggi alla stregua delle fake news dimostrerebbero danni fisici a lungo andare sulla popolazione. Ma che le antenne a bassa potenza, ma a maggior diffusione del 5G, possono nuocere alla salute lo si saprà ancora tra molti anni, visto che ancora oggi non si ha certo contezza di quanto facciano davvero male le antenne ad altissima potenza invece del 2G e del 3G e che sono tutte intorno a noi. Solo tra molti anni? Sì perché il 5G ha una potenza di radiazione di molto minore rispetto all'attuale 2G e 3G di cui siamo pieni. Il 5G ha bisogno infatti proprio per l'utilizzo di onde corte di un numero maggiore di antenne per diffondersi, in quanto gli ostacoli non possono essere trapassati dalle onde, cosa che accade invece normalmente con il 2G e il 3G, cosa che accade anche in questo momento. Ciò che invece sarà il danno immediato con il no al 5G sposato da De Luca sarà la digitalizzazione monca della città di Messina, quella fitta rete di interconnessioni tra telecamere, informazioni fornite sullo stato dell'arte delle forniture idriche, quel riconoscimento facciale, la possibilità di sviluppare insomma il progetto di cui prima quell'Urban Act che vede anche l'Università di Messina in partnership che non potranno mai realizzarsi. Carta inutile, video e presentazione a Barcellona, prive di significato. Sarebbe interessante dunque sapere proprio che ne pensa l'Università di Messina del no di De Luca al 5G, quella istituzione che si occupa anche della salute e che potrà occuparsi in modo più concreto grazie al 5G della vera rivoluzione della scienza medica, quella telemedicina, come ad esempio le operazioni chirurgiche in remoto, impossibili proprio senza il 5G, ma che possono salvare una vita accorciando distanza e tempo prezioso di intervento. Ecco De Luca rincorre il 5G per azzannarlo ma rischia di essere come quel cane che per azzannarsi la coda si accanisce in un'impresa inutile facendo danno a se stesso, un'impresa che potrebbe essere dunque dannosa ed in questo caso non produttiva per la città di Messina. Mafia e giovani, ma anche giovani e comunicazione, giovani e informazione, come la vedono? C'è uno studio del centro Piola Torre per ricordare le vittime della mafia che ha posto sotto l'angrandimento che cosa pensano i ragazzi della mafia se lo Stato sta combattendo a sufficienza, ma soprattutto cosa ne pensano e a quale informazione attingono le loro informazioni. I ragazzi credono che lo Stato non stia combattendo a sufficienza la mafia e che non abbia intenzione di farlo. Due ragazzi su tre sono certi che lo Stato non fa abbastanza per sconfiggere le mafie, tre su quattro sono convinti che i boss fanno parte dello Stato e a tratti lo guidano. Per oltre l'87% dei giovani il rapporto tra mafia e politica è molto forte, o abbastanza forte, al punto da vedere nella corruzione della classe politica le ragioni della sua diffusione, al nord per il 56,89% e nella corruzione della classe dirigente le ragioni della sua sopravvivenza per il 50,74%. Infine il rapporto con l'informazione. Solo un ragazzo su dieci si affida dei giornalisti. Appena il 4,63% legge i quotidiani cartacei, il 22,67% si affida a quelli online, mentre un folto pubblico di 57,49% preferisce la tv e ben il 76% per informarsi e attinge ai social network come Instagram, ponendo un'ombra lunga sul pluralismo delle fonti e la verifica delle fake news. Sono i risultati di un sondaggio sulla percezione mafiosa condotta tra gli studenti dal centro studi Piola Torre, che sarà presentato il 30 aprile prossimo venturo, un modo per onorare l'impegno portato avanti da Piola Torre e Rosario Di Salvo assassinati dai killer della mafia il 30 aprile di 38 anni fa. L'esercito in Sicilia, da sempre attivo dal momento della prima emergenza, distribuisce viveri per i bisognosi e la brigata Osta che trasporta e consegna derrate alimentari in collaborazione con il Banco Alimentare nella Sicilia occidentale, pacche e buste chiuse in stretta aderenza alle normative per il contenimento della pandemia. La richiesta del Banco Alimentare, accolta con grande entusiasmo e testimonianza di come l'esercito sia da sempre al fianco dei cittadini, contribuendo quotidianamente a mantenere saldo il fortissimo senso di attaccamento alle comunità locali, anche attraverso manifestazioni di solidarietà. È stato attivato intanto dalla Cisla, lo spazio amico, lo sportello telefonico di Anolf per i nuovi bisogni vicini alle famiglie fragili, agli anziani, agli emigrati. È uno sportello telefonico a cui risponderanno i volontari del sindacato dal quale si possono rivolgere tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto. Il servizio sarà uno spazio d'ascolto attraverso il numero verde 800 06 5501. Dall'altro capo del telefono i volontari di Anolf Cisla, dell'Antes e dei volontari del sindacato, che saranno il primo front office per i cittadini. E questa era l'ultima notizia, vi lasciamo ad eventuali aggiornamenti, grazie a tutti per averci seguito e noi ci vediamo nell'edizione di domani. Una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.